Radio Radicale, siamo con l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini per parlare della giornata sulla violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre. Però questa settimana il Parlamento si è voluto occupare di questo tema con un dibattito, con la votazione di alcuni atti di indirizzo. Al Senato si sta lavorando all'istituzione di una commissione e molti parlamentari hanno avviato tante iniziative per denunciare il clima di violenza nei confronti delle donne. Noi ne parliamo con Laura Boldrini che è stata spesso e frequentemente bersagliata dagli haters sulla rete. E' per questo che Laura Boldrini ha dato vita alla campagna E io ti pubblico che ha ottenuto tante adesioni sia dell'associazionismo della società civile che si occupa dei diritti delle donne ma anche di tanti parlamentari, ex ministri ed esponenti politici come Maria Elena Boschi, Laria Cucchi, Federica Angeli, Arisa, Lucia Azzolina, Rula Jebreal, Vera Ghemo, Tiziana Ferrario, la scrittrice Michela Murgia, la cantante Emma Marrone, Lia Quartapelle, Nina Zilli, altra cantante, Matilde Siracusano, Deborah Seracchiani, solo per fare alcuni nomi. Allora, perché io ti pubblico? Cosa vuole denunciare con questa iniziativa? Sì, dobbiamo dire che la violenza contro le donne ha molti volti. Sicuramente il volto della violenza fisica che poi ha il suo apice nel femminicidio, cioè nell'uccisione di una donna che si dovrebbe amare. Poi c'è la violenza psicologica, quella di svilire le donne, no? Cretina, stai zitta, non capisci niente. C'è la violenza economica, cioè imporre alle donne di non lavorare, dunque di dipendere dall'uomo. E poi c'è la violenza di nuova generazione, che è la violenza digitale. E la violenza digitale a sua volta ha diversi volti. Quello del revenge porn, cioè quando una coppia chiude la relazione, che cosa può succedere? Purtroppo sempre più spesso che il ragazzo, l'uomo, mette immagini intime o foto intime della donna, della ragazza, in rete, dando anche il numero di telefono. E la vita di quella ragazza diventa un incubo. Quindi su questo tema noi abbiamo introdotto il reato, però manca l'assistenza psicologica alle vittime e anche manca una responsabilizzazione delle piattaforme digitali. E lo stesso discorso è per l'odio in rete espresso con messaggi sconci, volgari, minatori. Quindi c'è una degenerazione appunto del discorso pubblico nei social media. E allora io mi sono detta che bisognava fare qualcosa in questa occasione del 25 novembre. Ho detto vediamo se questo fenomeno può essere portato all'attenzione. perché non tutte sono disposte a querelare, quindi a dire le vie legali, no? Però bisogna farla una denuncia pubblica, collettiva, perché noi non dobbiamo convivere con questa violenza, né possiamo arrenderci, cioè autocensurarci perché abbiamo paura poi che si scateni l'inferno. Questo non è possibile perché mina la libertà di espressione delle donne e quindi in ultima istanza anche il livello, lo stato di salute della nostra democrazia. E quindi insieme ad altri colleghi parlamentari, ma anche figure della cultura, donne del mondo dello spettacolo, del giornalismo, abbiamo deciso di fare questa campagna e io ti pubblico, cioè tu odiatore ti permetti di umiliarmi con messaggi che tutti possono leggere, no? Che sono volgari e schifosi, io non posso pensare che tu la fai franca, ti devi assumere le tue responsabilità e allora io pubblico, pubblico quello che tu mi scrivi in modo che si faccia capire, specialmente alle ragazze e ragazzi, che questo è il modo sbagliato, è il modo peggiore che si possa mettere in atto per stare sulla sfera pubblica, cioè sui social media. Quindi noi vogliamo fare una denuncia collettiva per dire che non ci metteranno in soggezione, non subiremo l'intimidazione, non usciremo dalla sfera pubblica e al contempo però sono loro a doversi vergognare, loro che scrivono quelle bassezze a doversi vergognare. È un'iniziativa che ho condiviso con 20 donne che hanno un profilo pubblico molto forte e parecchie associazioni che si occupano appunto della violenza contro le donne e spero che vi siano molte adesioni perché purtroppo è un fenomeno assai diffuso a ogni livello. Noi abbiamo iniziato e spero che appunto questa cosa sia liberatoria per tutte le donne che non devono sentirsi sole, ecco, ma devono sapere che questo fenomeno va rifiutato e che noi non dobbiamo accettare di abbassare la testa nei confronti dei violenti. Ecco, dietro questa denuncia che lei fa con E io ti pubblico c'è il fatto che la rete e anche le piattaforme social siano diventate una sorta di ring soprattutto adesso che è arrivato Elon Musk che ha fatto questa marea di licenziamenti e ha riammesso anche Donald Trump che diciamo come rispetto dell'altro sesso insomma non ha mai brillato. Allora, lei teme questo e ritiene che comunque sia il caso di mettere mano a qualche norma perché le norme sul cyberbullismo non hanno funzionato. Ricordo il caso della Cantone, recentemente è riuscito un'altra volta il video. Allora, cosa è necessario fare oltre a queste denunce civili? Sì, io penso che infatti non si possa rimanere a guardare. Cioè chi è preposto a fare leggi non può ignorare questo fenomeno che tocca milioni e milioni di persone. Quindi credo che come fatto in altri paesi europei, ad esempio la Germania, bisogna fare una legge, una legge per contrastare l'odio in rete. Certo, l'ideale sarebbe una norma sovranazionale, visto che la natura della rete è sovranazionale, non ha confini, ma nel frattempo non si può rimanere a guardare. Ci sono svariate proposte di legge, tra cui una legge a mia prima firma contro i fenomeni di odio in rete e io penso che questa legge debba essere calendarizzata, perché abbiamo delle responsabilità di fronte a chi si sente minacciato e si sente sotto pressione a causa dell'agogna pubblica. Cioè è un fenomeno talmente grave che non può più essere ignorato. Quindi mi auguro che ci sia una presa di responsabilità da parte delle forze politiche che si arrivi a portare in discussione proposte di leggi che già esistono. Senta, al di là di quello che viene detto in queste importanti ricorrenze, lei ritiene che ci sia uno squilibrio tra ciò che noi vediamo sia in televisione attraverso i social che ci fanno immaginare un tipo di realtà che non è quella che viviamo tutti i giorni e che può provocare anche questo tipo di violenza. Ritiene che ci siano dei modelli sbagliati che noi eseguiamo e che ci incitano a commettere alcuni tipi di reati. Ma io penso che ci sia un livello di violenza molto pericoloso nella società. I social media... Ecco, ritiene che sia indotto in qualche modo. Eh, i social media con l'illusione dell'impunità alimentano questa modalità violenta. Invece bisogna chiarire che i reati esistono anche in rete. Cioè che minacciare una persona in rete equivale a farlo fuori dalla rete. Cioè c'è un reato comunque. E quindi le persone devono sapere che poi ci sono delle responsabilità di fronte a questo. La libertà delle persone finisce nel momento in cui esiste anche la libertà di chi riceve queste offese, queste ingiurie, queste minacce, a difendere la propria reputazione e la propria persona. Cioè la libertà di espressione non c'entra niente con gli insulti e le minacce. Sono due cose diverse. Quindi non confondiamo i piani. Quello che io dico è che regolamentare in questo caso vuol dire fare in modo che tutti possano esprimersi liberamente, ma che non ci sia appunto la sovraffazione da parte dei violenti e quindi non ci sia una sconfitta da parte delle persone che non accettano questi metodi. Quindi le persone vanno protette. E per fare questo le piattaforme digitali devono essere sanzionate se non fanno il loro lavoro di mediazione. Bisogna cancellare i messaggi offensivi. Bisogna collaborare anche con le autorità giudiziarie quando ci sono minacce gravi. E troppo spesso questo non accade. Non accade perché nel nostro paese non c'è una legge. In Germania, laddove c'è una legge, le cose vanno molto meglio. Ci sono più uffici delle piattaforme digitali, quindi un lavoro di controllo dei messaggi. C'è più attenzione. E questo, quindi mi sembra che questo debba essere il modello. Riuscire a contenere la degenerazione del dibattito pubblico. Un'ultima cosa. Nella scorsa legislatura, l'intervento, diciamo, più ambizioso che si è cercato di fare per contrastare la violenza contro le donne è stata quella del Codice Rosso. È stato un fallimento, secondo lei, perché la cronaca ci ha fornito dei dati in cui c'era stata una denuncia, ma non era stato fatto assolutamente nulla. Allora era un provvedimento ambizioso che è andato oltre le forze che noi abbiamo a disposizione nella magistratura e nella polizia. Ma ce lo dissero tutti in quel momento o quando facevamo le audizioni che a invarianza di spesa non si ottengono risultati. Quel provvedimento, che aveva anche buone misure, era invarianza di spesa. Cioè, come si può pretendere di accelerare il procedimento senza dare agli uffici giudiziari gli strumenti per farlo. Questo era il grande limite del Codice Rosso. Cioè, pretendere un'accelerazione dell'iter condivisibile, ma senza dare i dovuti mezzi per organizzare gli uffici giudiziari in modo da poterlo fare. E questo era appunto il limite che poi avrebbe inficiato, a nostro avviso, come è accaduto, poi la traduzione di quelle norme in pratica. Io la ringrazio per averci parlato della campagna E io ti pubblico e delle questioni che restano ancora aperte in vista del 25 novembre. Ringrazio l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini. Grazie.